Mino Raiola non è morto. La news della morte di uno dei procuratori più importanti del mondo del calcio esplode all'improvviso e fa rapidamente il giro del mondo. Poco dopo è arrivata la clamorosa smentita da parte dei medici e dei collaboratori che gli sono vicini, a cominciare dal professor Zangrillo, direttore del dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo, ha dichiarato.